che ci giriamo ok al mio via 3, 2, 1, via! Let's go! porca merda si vabbè ma che cazzo è se il pingone di tua madre quattro ben ragazzi, qui è tre cose di oggi siamo qua con un nuovo episodio di Minecraft Survival Games siamo qui in compagnia di un frocio kamikaze ciao a tutti allora siamo qui in una mappa che è praticamente dispersiva bestia perché è piena di alberi e ci troviamo qua con i survival games dopo altri 30 anni che non ne facevamo uno per quale motivo? perché non avevamo voglia e laggavano a bestia, era pieno di città e basta perfetto adesso non ci sono i città esatto, però vabbè, visto che comunque fa caldo e la testa è molto più bella quindi abbiamo deciso di fare un video su survival games come puoi sia eh sì, seguimi, seguimi non ho nulla, ti sto avvisando, soltanto un arco andiamo tipo qua dentro, dai, vieni qua aspetta, una cesta, una cesta, una cesta eh, prendila tu, no? spada, armatura, stick, cosa ti farò a posto? perfetto vediamo cosa... aspetta, aspetta qua dentro c'è qualcosa, no, non c'è niente tieni, oh, tieni, portaci che cosa? uh, per me di che cazzo di marca sono? jouers ma bella oh, lì una cesta intendo che qua a destra c'è uno ammazzalo di botte no, aspetta, 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 non ci andare da solo morto tieni perfetto dammi una spada yeah ok tieni tutto lui c'ha, io non sto facendo nulla che bella ad aprescala puoi usare ebbè, è bella la vita così aspetta eh, non so come cazzo prenderla l'allenamento è abbastanza poco in effetti, aspetta, aspetta no, 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 forse si fa così no no un po' di filo un po' complicata qui la situation no, ma che cazzo sia o meno si va di qua, eh aspetta, intanto vado a prendere quella lalea in fondo, l'ho visto ah, oh, un gioco che cosa intanto io trovo da una spada in pietra vabbè io ho comunque sono salito da sotto eccome tieni ok 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 allora seguiamo il mio istinto io direi di andare conto oh la figa nel culo che mi bolle dentro seguimi citro salmonez bello seguimi eh, si ti sto seguendo seguimi ok non devo stare calmo aspetta qua c'è segno di umano vado quanto cazzo come c'è segno di umano dai c'è qualcosa picciò tu oh, infatti segno di umano c'è c'è un umano per quanto si possa definire umano perché è brutto come la merda lascio pure c'è un altro ho visto con il aspetta 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 e non c'è andare vai più uccidi prima questo ma non solo sempre se lo riesco a prendere vai baci dall'altra parte ok vola a posto a random è esploso non è che è morto di qua di qua vieni 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 non si sta male vieni vieni ok dove cazzo l'hai visto di qua di qua di qua di qua non lo so ma dove sta però mentre io devi sistemarmi l'inventario pote vieni eccolo eccolo c'ho la sbagli pietra vabbè capirai se magari io io sono l'unico che non lo vede perfetto sta qua sta qua riempilo di botte di lì che deve pagare con le botte faglielo capire dai con le botte brutto bastardo becca di questo aspetta aspetta attenzione non c'ho full ferro c'ho full ferro scappa scappa non pensarci anzi bugia arrasiamolo di botte aspetta 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 fammi opportunizzare aspetta aspetta vaffanculo oh l'ho preso attenzione aspetta aspetta proteggimi dregò proteggimi you can you can aspetta un attimo tu ce l'hai una spada in oh c'hai un lingotto? no c'ho questo eh no me ne faccio un cazzo buttiamo qua la merda e andiamo cioè poi cerchiamo di inseguire quel tizio c'ho anche questa aspetta aspetta mi faccio altre frecce questo questo e questo effettivamente posso anche io farmi le frecce quindi aspetta un attimo non è che me ne sia fatte tantissime però ok io c'ho quattro stanno venendo due sono due scappa 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 vi diritti ma sono intima aspetto sì 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 ci abbiamo prima armaturizzare meglio sì infatti ghi обыч ha né mani tutte sudali post non sai l'unico è prima armaturizzare meglio sì infatti villiani via 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 Vai Vai households battute nella frittata costa solo questo ma allora andiamoci ma non puntato si 60 sì ma fidati che ce la facciamo quindi viene no 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 tre con questo che ci porta da quell'altro ci porta da quell'altro questa del comano puntato la roba in testa mi chiamo guarda la freccia non l'hanno puntato in testa cioè il manopuntato 69 punti mi sa no non c'è nulla c'è un cazzo no o qui c'è scritto bonti has been set by pokemon io io leggo anche a me no su poche mai ok 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 infatti so qua dove indica la freccia che basta prendi con la cesta non c'è nessuna cesta per un caldo ci dà abbastanza la testa fateci sapere quanti gradi avete nella vostra stanza perché noi ci interessa ci interessa davvero quanto una giornata di inverno è rosa il punizio è bello qualche ballo con le in bag della mappa ho visto che la città qualcuno con la full fan rozzo adesso è quello di prima aspetta faccio f3 a a a a a a a si sono due la che sono combattante allora forse rilascio se ci rifaccia ci facciamo una bella tavol che il blu team da pochi luci da bocchio il calore e sb indistro il bambino spazio di sapere se tutte le caspe io ti seguo sempre ce l'ho seguito molto una spada in petruzio ma la spada in petruzio nata in legno prova se lo so visto dovrebbero fare la spada di smeraldo a destra per fare cosa la spada di smeraldo non lo so però potrebbero aggiungere numeri minerali a minecraft e tipo cazzanzacce quelli che ci sono nella ftb tipo il petruzio molto famoso sono andato a sbattere ovunque eccolo eccolo questo qua aspetta 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 ok ci vado di qua io devi farti vedere se non ti fai vedere è morto questo che è quello che gli hanno puntato se stanno punti in testa vieni morto oh ma che cazzo sono l'unico che tipo scivolano i diti sopra le i diti le dita le dita sopra la tastiera merda certo zio fruscio del cazzo boh boh boh! boh o c'è uno dietro! perfetto infianni bello bellissimo anche tu non è vero aspetta però gli provo da ammazzare a stilu già che ci sto detto ambulanza si un'ambulanza il tuo acciadino mi potrebbe servila vai dai aspetti io ti devo aspettare dai che ce la puoi fare ti spetto ugualmente come cazzo si fa a spettare ah, spettate kamikaze 12, 16 fatto, dai dai che ce la puoi fare dai che ce la fai poi ci sta uno lol 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 comunque anche se facciamo che viene questo video abbastanza corto non è un problema perché tanto comunque visto che adesso abbiamo abbastanza tempo qualche survival games la settimana ve lo portiamo, fateci un po' sapere se l'idea vi piace no, sono in team questi qua il fatto che non ho ancora capito come cazzo sono morto cioè c'era uno dietro che tipo mi levava mille cuori al secondo no, non ce la fai, è impossibile sto tirando freccia a cazzo i cani ma sono tutti in team questi cuori no, 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 mi sa di no vedi si stanno sparando vedi un po' tipo quello che a me è un'armatura provo a uccidere qua ecco, perfetto addio kamikaze no è stato bello è stato bellissimo avevi 69 bounty lol allora ce li avevo in testa no, adesso li avevi perché hai ucciso quello e quindi poi ti sono messi te in testa capito? abbiamo ucciso quello che ce ne aveva in testa e quindi pokémine quel tizio e vabbè no, guarda che il pokémine sta ancora vivo allora non ne ho proprio idea comunque spero che questo piccolo video vi sia piaciuto ogni settimana penso che avrete un survival games oppure un hunger games tipo con gli altri server là che dura tipo 3 ore quindi spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi anche al canale di kamikaze ma ovviamente io ve lo sconsiglio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi perché non faccio video quindi sarebbe completamente nudo esatto dobbiamo aspettare un po' prima che lui inizia a fare i video quindi bello grazie